Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci tornate con un nuovo video. Oggi voglio farvi Little Girl, che cosa stai facendo? Allora, con Chiara Coppola, iscrivetevi al suo canale e anche al canale di Little Girl, che stai insieme a me. Iscrivetevi anche al nostro canale, vabbè. Allora, qua c'è il pisciolino rosso, non lo so perché non nuota, e qua c'è la tartaruchina. Funziona col mio così. Ecco qua. Ok, ora nuota. Qua c'è un fiorellino e qua c'è una pigna, come ricordo, dell'orto botanico di Napoli. Qua c'è la tartaruchina e un maschio. Ok, prendi la tartaruchina che fa un saluto. Ciao. Ciao a tutti. Anche io un canale. Sì. Mi chiamo deltaruchina05. Perfetto, ciao. Ora buttali in acqua che è meglio. Ok, è finito questo video. Ciao a tutti. Dai, saluti anche tu così. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ahah!